Potere al popolo, l'unica lista di sinistra? Assolutamente sì, e non perché ci fa piacere questa cosa, ci piacerebbe che ci fossero altre liste di sinistra, però oggettivamente se andiamo a vedere quelli che sono i programmi, ebbè purtroppo gli unici che sono effettivamente, che portano avanti gli interessi delle classi popolari in questo paese, è la lista di potere al popolo, con un programma chiaro, con dei dati che vengono dal popolo, non sono gente che ha sempre fatto politica di mestiere, no, sono quelli che si vivono le contraddizioni quotidiane ogni giorno, che subiscono le politiche di impoverimento e che tentano di dare delle risposte, lo tentano attraverso le attività sociali, il mutualismo, quindi fornendo subito una risposta a quelli che sono i bisogni che vengono espressi. E poi hanno fatto un passo in avanti, quindi da quello che è il lavoro di mutualismo e solidarietà, sono passati invece a tramutare quelle istanze in proposta politica compiuta, e a portarla avanti appunto con un programma radicale, dei candidati credibili, e soprattutto interfacciandosi con tutti quelli che in Europa stanno combattendo contro lo stato di cose presenti. Oggi abbiamo avuto il gran piacere di avere ospite Jean-Luc Mélenchon della France Insoumise, che è probabilmente una delle espressioni più avanzate di questo movimento che in maniere diverse, con forme diverse, che viene anche da culture politiche diverse, si sta cominciando a incrociare e sta cominciando effettivamente a porsi a quello che è il livello dello scontro in atto in Europa, perché non come dice giustamente proprio c'è Luc Mélenchon, beh qui ci sono due possibilità, o ci sediamo attorno a un tavolo, rivediamo tutti i trattati che impoveriscono le popolazioni dell'Europa, e quindi ecco partiamo da un foglio bianco e andiamo a riscrivere quelle sue regole, oppure non c'è n'altra soluzione che è una rottura, una rottura radicale, è proprio quei paesi che hanno più sofferto si metteranno insieme e troveranno una nuova via. È per questo che noi, come potere al popolo, andiamo convintamente alle elezioni e facciamo appello a tutti quanti non a votare, ma a partecipare al potere al popolo, a partecipare a questo momento che avrà una prima scadenza nelle elezioni del 4 marzo, ma che poi sicuramente andrà avanti con la forza delle sue 150 assemblee, con la forza dei tanti militanti sul territorio, persone diverse che però si sono unite e vanno avanti. Salvini mette i poveri contro i più poveri, voi come vi ponete sulla questione immigrati? Ok, secondo me questa è la domanda che c'entra proprio quella che è la questione che è al centro dell'attuale campagna elettorale. La campagna elettorale che stiamo vivendo è probabilmente la peggiore che ricordi l'Italia repubblicana, è una campagna elettorale tutta basata sull'odio, l'odio verso chi sta peggio, quindi ci stanno quelli come i Miniti che invece di fare la lotta alla povertà fanno la lotta ai poveri, con la scusa del decoro urbano. E poi ci sono chiaramente gli ultimi, i migranti, quelli su cui si concentrano ormai tutti quanti. Beh, questo è il gioco che i potenti hanno sempre fatto, dividere, portarci a guardare in basso, a prenderci con chi sta peggio di noi, proprio per evitare che invece cominciamo a guardare in alto e a prendersi effettivamente con chi è responsabile delle politiche di impoverimento. Noi quello che stiamo facendo è proprio questo, perché pensiamo che le persone non siano cannibali, le persone non odiano. È normale, se gli si dice, come fanno tutti quanti, che non ci sono soldi, è normale, tutti quanti pensano prima, se non ci sono soldi io penso a far mangiare prima mio figlio e quindi si innesca la guerra tra poveri. Ma se invece si dice la verità, ovvero che i soldi ci stanno, che questo è il paese con la ricchezza privata più grande d'Europa e che quindi ci sono soldi non soltanto per i migranti, ma per tutte le fasce svantaggiate, per poter vivere tutti quanti in armonia, beh, là la situazione cambia. Ed è proprio il contenuto principale della nostra linea. Noi vogliamo una vera ridistribuzione della ricchezza, che è l'unico modo per far ripartire l'economia, perché se l'economia riparte soltanto se la gente ha soldi in tasca da spendere. E solo in quel modo si creano veri posti di lavoro. Invece adesso ci troviamo nella situazione incredibile, ecco, i dati ci dicono che c'è la crescita, ed è vero, c'è la crescita, però nessuno di noi l'avverte. Il motivo è semplice, perché la distribuzione della ricchezza è assolutamente ineguale. In questo periodo si stanno arricchendo soltanto alcuni, mentre gli altri vedono peggiorare quotidianamente le proprie condizioni. Il potere al popolo essenzialmente è questo, andare a creare un meccanismo di maggiore solidarietà, di maggiore egualità tra tutte quelle che sono le classi sociali, in modo che possiamo effettivamente invertire la tendenza e dire no all'odio, sì alla cooperazione e alla collaborazione.